No. Dove stai andando? Non lo sai chi è? È Wilkett Hendrick, son professionista. E con questo? Ti fa paura, forse? Hai qualche soldo? Così va bene, fratello. Vorrei poter raccontare che Wildcat Hendrick ha giocato con me. Non è meglio in cinque? La carta più alta serve, no? Grazie. 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 Buone. Grazie. 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 Io passo. Apro di 10 dollari. Vediamo l'apertura. Vediamo l'apertura. assù. Ciao. Inizio. Non vuoi. Per prima a ciò faccia. L'apertura. La prima. Per prima a tutti. Guardià, possiamo poter tornare pegi perché non vedi Libring. Questa è un'apertura. Per prima a là. Dalle mie parti si usa tagliare. Grazie. Apro di dieci. Io dico cinquanta. Ce ne vogliono cento. Due. Due. Servita. Servita. Cento per giocare. Cento. Più cento. Grazie. 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 Il tuo ragazzo. Tu dici. Io dico. Ti offro da bere, ragazzo. Dicono che una pallottola nello stomaco bruci meno se c'è del whisky. Il signore lo prende doppio, così non te ne accorgerei nemmeno. E sbrigati. Non ci hai capito niente? Te lo rifaccio, se vuoi. E basta. L'hai capito? Credi che la faccenda sia finita qui? Eh, sì, credo di sì. Sei un bastardo! Beh, hai indovinato. Questo è vero. Ehi, quanto abbiamo vinto? Vuol dire quanto ho vinto io? Tu hai perso, mi sembra. D'accordo, vuol dire che li tieni tu, eh? Credete.